Buongiorno, sono Francesco De Marco, il direttore commerciale Logo Group. Oggi abbiamo organizzato un evento festa all'interno dell'azienda, visto che abbiamo la possibilità di vedere transitare il Giro d'Italia, nello specifico il chilometro zero di fronte alla nostra azienda. Abbiamo coinvolto tutti i dipendenti, circa 250 persone. È un evento per noi molto importante perché il fatto di poter coinvolgere, di poter rendere orgogliosi del luogo in cui lavorano e dell'azienda per cui lavorano i nostri dipendenti è un elemento assolutamente molto importante. Passo la parola alla nostra marketing manager Agnese De Rossi, che dà magari qualche indicazione in più sull'evento in questione. Buongiorno, abbiamo deciso di fare questo evento proprio per il passaggio del chilometro zero. Oggi è una tappa di casa per noi. Siamo con uno stand al villaggio di partenza di Cittadella, dove distribuiamo i nostri prodotti con il pack dedicato, le ciambelle all'albicocca, che poi seguiranno il percorso del Giro e verranno distribuite a tutte le persone che seguono il Giro lungo il suo percorso. Noi qui in azienda, appunto per il passaggio del chilometro zero, faremo una festa. Visto il coinvolgimento come fornitori ufficiali del Giro, come diceva Francesco, ci pareva importante coinvolgere tutta l'azienda per il lavoro fatto in questo Giro d'Italia 2021.